Musica Amici telespettatori bentornati all'appuntamento con la nostra informazione. Partiamo con il fatto del giorno. Scoperta per la prima volta in Italia un'associazione a delinquere finalizzata allo scambio, alla divulgazione e alla distribuzione di materiale pedopornografico su internet. L'operazione è denominata a cloud, coinvolgerebbe 14 indagati. I dettagli sarebbero decisamente raccapriccianti. Sentiamo. Circa un milione di file video, immagini con azioni particolarmente raccapriccianti in cui erano coinvolti dei minori in scene di sesso, anche con animali, o sottoposti a strumenti di tortura e costrizione. E' quanto hanno scoperto i poliziotti della Polizia Postale di Catania durante le perquisizioni degli hard disk nei cloud storage degli indagati nel blitz antipedofilia e informatica scattato in tutta Italia. 17 le persone indagate, di queste tre sono state arrestate in flagranza di reato per la detenzione di ingente quantitativo di immagini e video ritrenti minori impegnati in scene di sesso. Gli arrestati sono un libero professionista di 40 anni che a Napoli sarebbe stato trovato in possesso di circa 1500 video di pornografia minorile, un impiegato pubblico di 55 anni intercettato a Milano che avrebbe collezionato nei propri dispositivi circa 110.000 immagini e 1700 video pedopornografici e infine un 51enne bloccato a Salerno che avrebbe messo assieme oltre 2000 video pedopornografici. Sui casi sono state allertate le comunità internazionali. Anche per queste ragioni, ed è una delle prime volte in Italia, che agli indagati viene contestata l'associazione a delinquere. I poliziotti, coordinati dalla procura di Catania, hanno agito sotto copertura scoprendo la community che attraverso i cloud storage scambiava materiale pedopornografico senza lasciare alcuna traccia sui propri personal computer o sugli smartphone. Nell'ambito di queste indagini, lo ricordiamo prima del suo genere, in Italia viene contestato a questi indagati il reato di associazione a delinquere sul web. Sull'argomento abbiamo sentito il procuratore facente funzioni Michelangelo Patanè. Sentiamo. Questo è un reato associativo che invece avviene sul web, cioè queste persone che sono state, alcune arrestate, altre continuano ad essere indagate, ecco posizionavano sul web, sul cloud, sulla nuvola, queste date, queste immagini, queste filmate, di cui poi usufruivano scambiandosele tra di loro. Abbiamo individuato circa un milione di immagini, ma sicuramente ve ne saranno molte di più. Questa attività compiuta dalla procura e dalla polizia postale veramente fa luce su uno scenario davvero impressionante. Bisogna però riconoscere che noi, in particolare la polizia postale, va di pari passo, andiamo di pari passo con le volverse della tecnologia. E proseguiamo ancora con la cronaca. Un effrato omicidio si è consumato ieri sera a Niscemi. Un uomo di 54 anni ha sparato alla convivente 23enne per motivi di gelosia, uccidendolo. L'aggressore si è poi costituito subito dopo il delitto. Sentiamo. Tragedia passionale a Niscemi, dove un camionista di 54 anni ha ucciso con sei colpi di pistola la convivente romena, Anna Maria Floren, di 23 anni. È stato l'assassino stesso a costituirsi ai carabinieri dopo l'omicidio. Il comune del Nisseno è scosso da quello che sembra essere l'ennesimo delitto passionale. Il movente, infatti, sarebbe la gelosia. Il 54enne avrebbe ucciso la compagna in via Guido Rossa, poco prima delle venti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo l'ennesima lite tra i due. Il camionista, infatti, accusava la compagna di avere relazioni con altri uomini. Stando a quanto dichiarato ai carabinieri, il 54enne avrebbe raggiunto la convivente a casa di un'amica, dopo aver saputo che la ragazza aveva l'intenzione di lasciarlo. In preda a un raptus, il 54enne avrebbe estratto dalle tasche una pistola e sparato sei colpi contro la donna, colpendola alla testa in altre parti del corpo. In casa, al momento del delitto, era presente anche una bambina di due anni, che per fortuna è rimasta illesa insieme alla padrona di casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi, avvisati da una telefonata anonima ai sanitari del 118, che hanno soccorso la padrona di casa e la bambina, che sono state ritrovate sotto shock. Per la ragazza romana, invece, non c'è stato più nulla da fare. E resti anche a Gela per una banda criminale accusata di aver commesso furti, danneggiamenti, rapine e anche spaccio di stupefacenti. Anche in questo caso sentiamo di che si tratta. Furti, danneggiamento e spaccio di stupefacenti. Sono queste le accuse mosse dalla polizia nei confronti di una banda di 16 pregiudicati, tutti legati da vincoli di parentela. Il blitz è stato eseguito fra Gela, Catania e Foggia, nell'ambito dell'operazione chiamata Parenti Serpenti. Gli agenti del commissariato di Gela sarebbero risaliti ai presunti autori di alcuni episodi criminali, specialmente rapina a mano armata, contro supermercati, negozi e tabaccherie, dopo aver esaminato nei dettagli i singoli fatti, riscontrando in più occasioni lo stesso modus operandi. Guidati dal vicequestore Francesco Marino e coordinati dal procuratore della Repubblica Lucia Lotti, i poliziotti hanno prima analizzato le modalità di esecuzione, gli abiti indossati, il tipo di armi usate, corporatura e linguaggio dei banditi e avrebbero scoperto la presenza di loro talpe nei supermercati rapinati, scoprendo che, tra il personale dipendente di due dei discount presi di mira dai rapinatori, figuravano altrettanti cugini, omonimi, incensurati, parenti di un pregiudicato noto per i suoi precedenti per rapina. Una vera e propria organizzazione criminale a conduzione familiare, vicina a Cosa Nostra, che gestiva un vasto traffico di stupefacenti, tra Catania e Gela. Durante le indagini sono stati sequestrati 5 kg di droga e i proventi delle rapine sarebbero serviti a finanziare l'acquisto degli stupefacenti. Operazione antimafia anche nell'Ennese. Nel piccolo comune di Cerami, 10 persone sono state arrestate con l'accusa di rapina, estorsione, furto e porto abusivo di armi. L'operazione fa seguito ad un blitz di giugno, che portò in carcere 16 persone accusate di furto, rapina ed estorsione. Spunterebbe il nome di Giambattista Coltraro nella maxinchiesta sulla compravendita fittizia di appezzamenti agricoli che ha portato a 13 misure cautelari, tra cui 11 arresti. Adesso andremo a vedere anche il servizio. Queste sono immagini che si riferiscono a quanto detto poc'anzi, nel servizio precedente dove ci sono stati questi arresti nell'operazione Discovery. Noi intanto proseguiamo con questa ulteriore notizia che riguarda appunto un deputato del Lars con Giambattista Coltraro che è stato indagato nella maxinchiesta sulla compravendita fittizia di appezzamenti agricoli. Sentiamo. Ci sarebbe anche un notaio oggi, deputato regionale, che guida il gruppo di Sicilia Democratica dopo lo strappo con gli ex compagni passati in Sicilia Futura fra le persone coinvolte nell'operazione dei carabinieri di Siracusa che hanno smantellato un'organizzazione specializzata nelle truffe in agricoltura. I militari del comando provinciale a Retuseo e del nucleo antifrodi di Roma hanno eseguito 13 ordinanze cautelari emesse dall'autorità giudiziale di Siracusa a conclusione di mesi di indagini. Secondo l'inchiesta della Procura, il gruppo criminale avvalendosi di atti pubblici falsi rogati dal notaio Giambattista Coltraro, deputato regionale del gruppo Sicilia Democratica, risultato il più ricco all'Ars nel 2014. Tra il 2011 e il 2014, anche con intimidazione e danneggiamenti, avrebbe acquisito la disponibilità di oltre 2.000 ettari di terreno appartenenti ai dignari proprietari e con la complicità di ispettori della GEA, l'Agenzia delle erogazioni in agricoltura avrebbe conseguito erogazioni pubbliche per oltre 200.000 euro. I reati contestati sono associazione per delinquere, tentata estorsione aggravata, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Emessi un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonino Carcione, 46 anni di Lentini, 10 ordinanze di custodia all'arresti domiciliari, tra cui destinatari risultano due dipendenti e due collaboratori della GEA, una misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, un'ordinanza di divieto temporaneo di esercitare la professione notarile per dieci mesi nei confronti del notario Coltraro. Secondo quanto scoperto, il gruppo si sarebbe appropriato in modo fraudolento con minacce, intimidazione e danneggiamenti di centinaia di terreni per sfruttare le erogazioni pubbliche in economia e nell'allevamento. Sono stati inoltre sequestrate a livello preventivo oltre 500 terreni del valore di oltre 3 milioni di euro e la somma di 175 mila euro. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe storta ai legittimi proprietari oltre 2 mila ettari di terreno. I reati contestati vanno dalla truffa al falso al riciclaggio ed altro nell'ambito dell'agricoltura. E torniamo adesso a parlarvi del caso Palermo. Sospendere dalle funzioni e dallo stipendio Silvana Saguto, l'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, indagata a Caltanissetta. Lo hanno chiesto il ministro della giustizia Orlando e il PG della Cassazione Ciccolo alla sezione disciplinare del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che deciderà venerdì. Si tratta di una misura cautelare, cioè da decidere in via d'urgenza, che il ministro e il PG della Cassazione hanno sollecitato nell'ambito dell'azione disciplinare nei confronti proprio del magistrato accusato di corruzione. Ci fermiamo per la pubblicità. Al nostro rientro parleremo di politica con in primo piano il caos per quanto riguarda il bilancio e il rimpasto di governo. Restate con noi. Tennis Club Valleiato Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Valleiato Il Circoletto A Partinico incontrata Timpanella Telefono 091 50 78 970 340 50 95 017 Tennis Club Valleiato Il tuo circolo del tennis E bentornati in studio. Passiamo dunque alla politica. Rientrato da Roma dove è riuscito a strappare un accordo per un nuovo incontro che risolve i bilanci non solo per il 2015 ma anche per i due anni a seguire il presidente della regione Rosario Crocetta si rituffa nel caos rimpasto con i partiti della maggioranza che restano inchiodati nelle proprie posizioni. Fine ottobre le temperature scendono ma Palazzo d'Orlean sembra ancora piena estate. È rientrato da Roma con un paio di certezze in più il presidente della regione Rosario Crocetta accolto a Palazzo Chigi ieri per discutere del bilancio siciliano e degli steppe futuri per salvare l'economia dell'isola. Accompagnato dal vicepresidente Mariella Lobello e dall'assessore all'economia Alessandro Bacei il governatore ha incontrato i sottosegretari Claudio De Vincenti e Gianluca Bressa toccando temi importanti come il trasferimento dei fondi Cipe necessari per archiviare il bilancio 2015 ma anche tutte quelle manovre che riportino la Sicilia nel range delle regioni a statuto speciale. Un nuovo incontro è stato affissato per il prossimo 9 novembre ma intanto Crocetta è chiamato a risolvere nel breve la grana rimpasto. Devo sentire i segretari dei partiti di maggioranza ha spiegato ieri all'uscita del tavolo romano mi devono dire loro cosa intendono fare io non ho posto condizioni inaccettabili sono sempre ottimista comunque un governo lo faccia. La nuova ipotesi tutt'altro che remota sarebbe quella di estromettere il PSI dalla nuova giunta riequilibrando così le distanze in maggioranza. Ai socialisti Crocetta vorrebbe lasciare in quota proprio l'Alobello che però quest'ultimi vorrebbero sostituire con Giovanni Di Giacinto. Il PD spinge sempre per una poltrona in più passando così da 6 a 7 ma il governatore nella sua mappa ne avrebbe previsti soltanto 5 per i democratici. Anche il PDR vorrebbe un assessore in più rispetto all'unico avuto sinora eventualità nata sullo sfondo della polemica al veleno tra Sicilia democratica e la neonata Sicilia futura. Ma novità su questo argomento sono arrivati in mattinata perché proprio il presidente Crocetta ha forzato la mano in barba a quelle che erano ovviamente le polemiche tra i partiti. Ho provveduto oggi a revocare le deleghe e le nomine agli assessori azzerando la giunta rimangono in carica il vicepresidente Mariella Lobello che manterrà le deleghe al fine di evitare vacazio di governo in mia assenza e l'assessore contrafatto per ragioni legate alla sua aspettativa di magistrato. Lo dice il presidente della regione appunto Rosario Crocetta la scelta spiega non era più rinviabile e l'azzeramento vuole accelerare i tempi del nuovo governo. Cambiamo argomento sono scesi in piazze i 24.000 forestali che da oggi sono sospesi dal proprio lavoro protestano contro la decisione della regione che appena una settimana fa si era impegnata con i sindacati a mantenerli in servizio in attesa dello sblocco da parte del CIP e dei fondi destinati al finanziamento delle attività ce ne parla Cettina Pellitteri E scattata oggi in quasi tutta la Sicilia la mobilitazione all'ostranza dei 24.000 forestali sospesi dal lavoro per mancanza di fondi che il governo regionale non ha riperito a Palermo e a Catania si finì protesta davanti alle prefetture e alla presidenza della regione a Messina presidio dei lavoratori dinanzi all'azienda delle foreste mentre a Denna già da ieri sera i forestali hanno bloccato le strade di accesso in entrate e in uscita provocando lunghe cote di automobiliste sulle arterie di accesso alla città la settimana scorsa il governatore Crocetta aveva assicurato ai sindacati che non ci sarebbero state sospensione in attesa della delibera Cipe per il finanziamento delle attività un impegno scrivono le organizzazioni sindacali che oggi si è rivelato carta straccia con la sospensione spiegano i lavoratori non potranno completare le giornate previste dalla legge un problema che riguarda in particolare i stettantottisti che hanno iniziato le loro giornate il 28 settembre e avrebbero dovuto terminare il 31 dicembre per l'ennesima volta siamo di nuovo in piazza con i lavoratori forestali io penso che questa sia veramente una grande vergogna della regione siciliana che dopo tantissimi anni lavoratori pagi di famiglia che devono campare la famiglia con tre turni di lavoro con 78 giorni e con 101 il governo ha assicurato da tutto l'anno che doveva garantire le giornate ai lavoratori per l'ennesima volta venerdì ci ha preso in giro a sindacati e lavoratori e i lavoratori sono in mezzo all'asciata e chiediamo che domani mattina i lavoratori devono andare tutti a lavorare tutti Lavoro, sviluppo, legalità questi temi presentati alla conferenza tenutasi questa mattina nella sede Cisle in piazza Castelnuovo a Palermo in merito alla mobilitazione dei sindacati che avrà luogo proprio il 31 ottobre ce ne parla Giorgia Tabita Si è tenuta questa mattina nella sede Cisle in piazza Castelnuovo a Palermo la conferenza sulla mobilitazione del prossimo 31 ottobre indetta da CGL Cisle e Will per affrontare i temi del lavoro sviluppo e legalità oggetto della protesta la dilagante disoccupazione inarrestabile fin dall'inizio della crisi e tutte le conseguenze che comporta le prospettive dei giovani in calo costretti a dover partire ad allontanarsi dai propri cari per crearsi un futuro e il costante impoverimento delle famiglie ad anticipare la protesta dei sindacati la conferenza stampa di oggi alla presenza dei segretari regionali Michele Pagliaro Mimmo Milazzo e Claudio Barone Arriviamo a questo appuntamento dopo tre anni e sono stati tre anni anche di un belaggio un belaggio che purtroppo non è positivo né per la Sicilia né tantomeno per i siciliani e lo dico pensando a chi non ha un lavoro a chi lo perde a chi non lo trova a chi non ha una protezione sociale ai tanti giovani che sono costretti ancora oggi ad emigrare in questo momento il governo parla solo di poltrone di assessori ma dei problemi dei siciliani e della loro soluzione non vi è traccia abbiamo l'emergenza drammatica nel settore l'edilizia con 8 mila edili licenziati abbiamo la formazione professionale allo sfascio i forestali che sono in piazza presi in giro senza che ci sia nessuna prospettiva di arrivare a fine anno dovunque si sta affondando nel 31 effettueremo delle manifestazioni territoriali che è il primo appuntamento che deve in un certo senso traguardare il nostro malessere la nostra insofferenza nei confronti del governo regionale che non pratica né tantomeno attua le riforme annunciate il problema vero è che la drammaticità della situazione siciliana è arrivata al limite di conseguenza a partire dai forestali alla formazione professionale al precariato al mancato sviluppo alle mancate infrastrutture gli elenchi sono infinite e quindi necessita inevitabilmente non solo un cambio di passo ma direi un cambio completo di gestione complessiva 63 assunzioni a fronte di oltre 46.000 tirocinanti sono questi i numeri clamorosi le cifle clamorose del progetto garanzia a giovani intanto la CCL ha deciso di pubblicare una guida anti fruttamento a tutela dei diritti dei tirocinanti sentiamo Gaia Di Giorgio 63 assunzioni al 28 settembre a fronte di oltre 46.000 tirocinanti non si placa la polemica sulle assunzioni previste dal progetto garanzia giovani la necessità di una nuova tutela trova spazio in una vera e propria guida per i tirocini ad elaborarla è la CGL Sicilia destinandola agli oltre 46.000 tirocinanti attualmente in attività e a chi lo sarà in futuro disponibile online sul sito web cgl sicilia.it ha già registrato più di 50.000 visualizzazioni l'iniziativa nasce come volontà di orientare e guidare quei giovani che si trovano inseriti per la prima volta nel mercato del lavoro la guida offre indicazioni su orari pagamenti registro delle presenze sospensione interruzione e fine del tirocinio il sindacato da tempo chiede controlli da parte dell'ispettorato del lavoro e una regolamentazione dei tirocini una circostanza molto polemizzata secondo le innumerevoli denunce pubblicate dai ragazzi sulle apposite pagine facebook tirocini di garanzia giovani e pagamenti garanzia giovani Sicilia le critiche impazzano sui social c'è chi denuncia improprio richieste di denaro da parte dell'azienda per l'assicurazione e chi descrive una situazione di sfruttamento del lavoro la segretaria CGL Sicilia Monica Genovese intervenuta durante una conferenza stampa ha sottolineato la volontà di garantire i diritti dei tirocinanti e dare loro prospettive future evitando che lo strumento dello stage per come in realtà già accade sia solo un regalo per le imprese si tratta di una forma contrattuale destinata a creare sfruttamento e nuovo precariato senza portare reali benefici sul fronte della disoccupazione giovanile Voltiamo pagina ufficializzata questa mattina la nomina di Corrado Lorefici a nuovo arcivescovo di Palermo Lorefici di 53 anni restato parroco già a Modica nel Ragusano e vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Noto sentiamo Palermo ha un nuovo vescovo è Don Corrado Lorefici di 53 anni parroco della chiesa di San Pietro a Modica nel Ragusano e vicario episcopale per la pastorale nella diocesi di Noto il successore di Paolo Romeo ad annunciare la sua nomina al vertice dell'arci diocesi di Palermo è stato lo stesso Romeo insieme al vescovo di Noto Antonio Stajanò una notizia attesa da giorni dopo le anticipazioni del settimanale L'Espresso di venerdì scorso che davano per certo il futuro del presbitero ragusano il cardinale Romeo 77 anni dal 2006 a Palermo è in prorogazio da due anni e mezzo avendo superato l'età di 75 anni limite imposto dal codice di diritto canonico da mesi quindi si aspettava la nomina del suo successore una scelta quella di Lorefice anomala un prete giovane che da parroco diventa senza essere stato vescovo guida di una grande diocesi sarebbe stato nominato dal pontefice per il suo impegno sociale vicino ai poveri di Modica e alle ragazze madri infatti Lorefice è andato più volte in Africa per aiutare gli ultimi un profilo che rientra bene nel nuovo corso di Bergoglio il nome di don Lorefice si era fatto anche per la guida della diocesi di Ragusa dove invece è andato Carmelo Cuttitta ex vescovo ausiliare di Palermo guai in visto meglio caos per i cittadini palermitani che a partire dal 3 novembre vedranno via Emerico Amari una delle arterie principali della città chiusa al traffico per i lavori tramviari per 11 mesi gli automobilisti dovranno trovare strade alternative sentiamo il centro di Palermo rischia la paralisi ancora una volta i cittadini specialmente gli automobilisti dovranno confrontarsi con le modifiche alla viabilità dovute ai lavori dell'anello ferroviario dell'impresa Tecnis dal 3 novembre infatti verrà chiuso al traffico il tratto di via Emerico Amari compreso fra via Crispi e via Principe di Scordia fino al 30 settembre 2016 per la durata quindi di 11 mesi a partire dal 3 novembre gli scavi occuperanno anche il lato destro della carreggiata del tratto di strada compreso tra via Scordia e via Roma oltre l'ordinanza firmata ieri dall'assessore alla mobilità giusto Catania che permetterà la realizzazione della galleria ferroviaria dal comune arriva un piano di viabilità alternativa alle aree interdette chiusa per lo stesso lasso di tempo anche la zona che intercorre tra via Giuseppe Lamasa e l'incrocio con via Principe di Belmonte ma non solo perché dal 9 dicembre anche un pezzo di piazza Castelnuovo sarà interessato dai lavori ferroviari fino al 31 marzo 2016 il cantiere si prevede occuperà il tratto compreso fra via Villa Reale e via Ruggero VII un grosso scompiglio dunque per i cittadini palermitani che saranno costretti a rivedere i loro itinerari giornalieri o a ricorrere a strade secondarie per non restare imbottiati nel traffico per entrambe le chiusure inoltre è previsto il divieto di sosta 24 ore su 24 con rimozione forzata dei veicoli mentre rimane garantito il transito pedonale sui marciapiedi nuovo rischio inquinamento nei corsi d'acqua della provincia di Agrigento secondo l'associazione Mare Amico l'acqua viola riscontrata viola scusate ovviamente riscontrata deriva dalla molitura delle olive che dal frantoio si riverserebbe lungo i fiumi sentiamo è tempo di olio nuovo e come ogni anno si verificano episodi di inquinamento a denunciare anche questa volta l'associazione ambientalista Mare Amico capitanata da Claudio Lombardo che ha presentato un esposto al nucleo operativo ecologico dei carabinieri tramite il comando provinciale di Agrigento al fine si legge in un comunicato stampa dell'associazione di individuare i frantoi che praticano queste illegali attività ed ancora spiega Mare Amico inizia la stagione della molitura delle olive e iniziano i problemi per i nostri fiumi e per il nostro mare per colpa di imprenditori responsabili che invece di operare secondo le regole imposte dalla legge sversano nei valloni o in fognatura le acque di vegetazione fatti documentati spiega ancora l'associazione con video e foto realizzate dal drone di Eric Rizzo al fiume Naro ma precisa Mare Amico che a seguito di alcuni sopralluoghi la medesima situazione è stata riscontrata anche nel vallone acque dolci in territorio di Real Monte nei fiumi Magazzola e Verdura in territorio di Ribera e nel fiume Belice in territorio di Santa Margherita i vari corsi d'acqua della nostra provincia la maggior parte denuncia Mare Amico da qualche giorno risultano di colore scuro per la presenza delle acque provenienti dai frantoi quest'acqua di vegetazione illegale sversata nei fiumi arriva inevitabilmente in mare colorandolo di viole provocando una riduzione di ossigeno nell'acqua che provoca la morte della flora e della fauna ittica conclude Mare Amico ci fermiamo ancora per qualche secondo poi lo sport restate con noi Tennis Club Vallegliato scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali tornei campionati a squadre corsi estivi lezioni private attività sociali punto mare diventa anche tu socio del circolo troverai cortesia e professionalità un ambiente esclusivo in ricercatezza nei particolari Tennis Club Vallegliato il circoletto a Partinico in contrada Timpanella telefono 091 50 78 970 340 50 95 017 Tennis Club Vallegliato il tuo circolo del tennis ed eccoci allo sport il calcio è già vigile di campionato per il Palermo di Beppe Iachini che domani scenderà in campo per il turno infrasettimanale nella proibitiva trasferta del San Paolo contro il Napoli di Maurizio Sarri Alberto Gilardino intanto a segno contro l'Inter ha parlato del momento dei suoi il Palermo ha proseguito altermente onorato gli allenamenti verso la partita di domani sera contro il Napoli i Rosanero hanno iniziato l'allenamento con alcune esercitazioni tattiche che hanno coinvolto tutti i calciatori successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi che hanno alternato movimenti di reparto ed esercitazioni atletiche e tecniche la seduta si è conclusa con lavoro tattico a tutto campo e prove di calci piazzati Bolzoni Morganella hanno svolto attività di riatletizzazione mentre Giurgevic si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti e prosegue la riabilitazione dal proprio infortunio intervistato intanto dal giornale di Sicilia l'attaccante del Palermo Alberto Gilardino torna nuovamente sulle prestazioni offerte dai Rosanero negli ultimi giorni e soprattutto quella di sabato contro l'Inter quello con l'Inter è stato sicuramente un bel pareggio e anche la vittoria di Bologna sono due esami importanti superati sullo stesso piano con i nerazzurri la prova della squadra è stata migliore nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla l'avevamo preparata proprio bene dice Gilardino che un pizzico di rammarico per come si erano messe le cose forse potevamo ottenere qualcosa in più ce la siamo giocata comunque siamo in chiusura adesso in arrivo tutte le ultimissime notizie dall'Italia e dal mondo grazie per averci seguito arrivederci duplice omicidio ieri sera alla periferia di Roma a Ponte di Nona due giovani sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco le vittime sono un 26enne e un 35enne sul duplice delitto indagano i carabinieri di Frascati e Tivoli la quotazione di poste è la prova che in Italia si possono fare le cose per bene così l'amministratore delegato di poste italiane Francesco Caio saluta l'entrata nelle contrattazioni alla borsa di Milano delle azioni della società il titolo in preapertura ha registrato rialzi boom a due cifre ma poi con l'apertura vera e propria delle compravendite i guadagni si sono assottigliati e ora stanno tornando al valore iniziale proposto ai risparmiatori cioè 6,75 euro per azione produttori di carne in rivolta dopo l'altolà dell'organizzazione mondiale della sanità sul rischio tumore per chi mangia carni rosse lavorate gli italiani seguono la dieta mediterranea e quindi consumano mediamente meno carne di molti altri paesi europei e non la nostra salute non è a rischio afferma Assi Casso Carni le nostre carni sono le più sane perché non trattate con ormoni rivendica anche la Col di Retti operazione contro la pedopornografia sul web della polizia di Catania tra le persone arrestate contestato per la prima volta il reato di associazione per delinquere per il quale sono indagate altre 14 persone lo scambio di materiale pedopornografico avveniva in un gruppo chiuso strutturato online basket in chiusura colpo esterno di Sassari nel Monday Night della quarta giornata di Serie A i campioni d'Italia vincono 86 a 70 a Varese e salgono a 6 punti in classifica nel gruppo delle seconde alle spalle di Pistoia capolista solitaria a punteggio pieno a punteggio pieno Grazie.